buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video oggi andremo a vedere il twisty slime due in uno della orbix allora andiamo a dare un'occhiata subito a questo piccolo giornalino vediamo un po' se c'è qualche curiosità slime fest musical.ly questa la youtube ancora altre curiosità altri youtubers e le altre colorazioni e le altre profumazioni colorazioni degli slime io purtroppo ho trovato solo questo qui arancione che era l'ultimo che è l'orange tiger tijer penso tiger che si legga in un vasetto unico c'è lo snow slime e il crystal slime insieme squishely insieme allora quindi andiamo ad aprirlo che sono super curiosa vediamo un po' e qua c'è lo snow slime e qua c'è un po' di crystal slime che è passato di qua e ci dovrebbe essere ecco questo da togliere oddio si sta appiccicando da tutte le parti ok allora voglio provare prima lo snow slime super appiccicoso vediamo se riesco a tirarlo fuori tutto si più o meno ok è molto molto appiccicoso adesso non so se devo un attimino modellarlo così però è molto appiccicoso questo però è molto molto rilassante sinceramente molto rilassante sentite che rumore rilassante si rimane un po' appiccicoso perché probabilmente una volta che si misca insieme a questo non lo è più ecco qua mi piace molto questo tipo di slime mi piace davvero tantissimo allora adesso mettiamolo da parte e prendiamo il crystal slime ecco qua questo è molto molto freddo come slime è proprio gelatina vedete devo scaldarlo bene perché non si allunga per niente e prendiamo un po' questa va in trasparenza vedete niente trasparente una volta scaldato e non si non si non si rompe più e scoppietta ovviamente va ancora scaldato per bene questo invece è molto più viscido come slime però non è appiccicoso ma ti lascia con la sensazione un po' strana guardate guardate è davvero molto rilassante questo mi piace un sacco di slime sinceramente e questo l'ho pagato 2,50 euro adesso proviamo ad andare a mescolare un pezzo di questo con un pezzo di quell'altro perché mi piacciono singolarmente anche questi slime quindi andiamo a prendere anche un pezzo di questo e questo lo mettiamo qui e vediamo come diventa allora lo snow slime non è più appiccicoso ovviamente mescolato insieme all'altro al al slime non è più appiccicoso però guardate che meraviglia no vabbè bellissimo anche questo anche tutti e due insieme è spettacolare mi piace un sacco in tutti e tre i modi wow anche il colore è molto carino sinceramente guardate guardate molto molto bello e niente starai qui infinitamente a giocare con questo slime troppo 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 bellissimo e adesso questo lo metto qui così ce l'ho tutti e tre insieme e niente magari scrivetemi qua sotto se anche voi l'avete acquistato se sì quale profumazione se vi piace e è tutto io sinceramente lo adoro da matti in tutti e tre i formati mi piace tantissimo è davvero rilassatissimo e veramente è stato un peccato che ho trovato solo questo se troverò ancora prenderò sicuramente un altro un altro un altro gusto ecco un altro colore e mi piace da morire quindi se volete prendere uno slavi io ve lo consiglio questo è stupendo meraviglioso e niente se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornate su tutti i miei video condividete questo video con i vostri amici vi ricordo di cliccare sulla campanellina per ricevere sempre la notifica del mio volta che caricherò un video e vi mando un bacio e un abbraccio e al prossimo video ciao ciao